Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Blast Off, sono di nuovo con i miei occhialini anti-alieni Sono pronto per un'altra missione ragazzi, ho visto che l'ultimo video non è stato molto visto Però ho saputo anche ieri da diversi colleghi che ci sono stati problemi con i feed ragazzi Quindi sono stati problemi di condivisione, molti di voi sicuramente non l'avranno neanche visto Allora vi ricordo per mandare avanti questa serie dobbiamo arrivare almeno a 40 mi piace, vi ricordo sempre questo Infatti l'ultimo non l'ho contato perché ci sono stati problemi e non l'avete proprio notato Quindi lo noterete dopo aver visto questo, tornerete a quello indietro Allora ragazzi, oggi cosa andiamo a fare? Visto che abbiamo fatto l'altra volta lo sbaglio della Groot Adesso noi dovremmo fare questo extra life che ci dà la ricarica e il robottino E a me mi interessa molto il robottino perché è veramente simpatico Allora, allora ci servono abbiamo detto i copper, i smash copper l'ho formati l'ultima volta L'ho messi da sta parte, questo è iron Copper ce ne stanno due qua, ma io mi ricordo di averne degli altri Forse l'ho messi qua Ok, mi sa che non ne ho abbastanza Ah, peccato, peccato Me ne mancano due ragazzi Io direi che mi li vado a farmare e torno immediatamente Tanto li farmo qua fuori Perché da dove si farmano ragazzi? Adesso vi faccio capire immediatamente da dove si farmano Prendiamo una bellissima, un bellissimo meteorite cascato Eccolo qua, da questo lato Basta smashare direttamente la pietra di meteorite con l'hammer E per niente ci dovrebbe dare dei copper e degli altri materiali vari Adesso proviamo Aspettate un attimo che ne faccio un altro paio Ne cascare un altro meteorite in testa, ottimo Ragazzi, ho recuperato quello che mi mancava E qui ci stanno dei mob che vorrei uccidere Che c'è? Una spada che mi mena? What the fuck? Ho un diamante, wow Allora, minando prima per trovare il copper Che l'ho trovato tutto Sono riuscito a prendere anche un diamante Pensando un po' che figata No Cosa sei tu? Cosa? No, ciao Me ne vado Basta, non ti voglio Ok, quel creeper non lo ammazzeremo mai Lasciamolo perde Allora, io direi Oh, un altro Uguale No, non me lo di Uh, è ancora peggio Uh Uh, l'ho ucciso L'ho ucciso Uh Madonna Ci mancavano pure i creeper hyperpotenziati Qua c'è una Cosa di Keystone Però noi dobbiamo andare Felicemente dentro a un dungeon Perché ci serve Da andare a trovare Eeeh Bellissimi Carni di zombie Che ci mancano Perché tanto il carbone ce l'abbiamo Quindi io dovrei entrare qua sotto Oddio, perché c'ho tutta sta fame No, sta cosa non va bene, raga Sta cosa non va bene Mi sa che mi torna pure Mi tocca pure torna a casa Arriva un po' Sì Perché non mi basta niente No, raga Devo ritornare Medisp Allora, vado un attimo dentro alla casa E mi prendo un po' di vermetti Mi spiace Ma Sono l'unica cosa che posso consumare Molto rapidamente E senza Sprecare cibo Dove stanno? Allora, ce n'ho molti qua Tanti sono quelli che mi hanno dato la quest Tacchete Ok, se ne mangio uno di più Mi fa ricalare il cibo È perché non mi riempie Perché non saziano in pratica Però meglio di niente Allora, riandiamo giù nel dungeon Non passo di qua perché c'è il creeper potenziato Dov'era il dungeon? Di là Ok Il creeper potenziato se n'è andato Sare sì Meglio così Forse l'abbiamo fatto Despawnare Allora Dobbiamo andare qua sotto Abbiamo detto Perché ci dovrebbe stare uno spawner di zombie A fianco a quello di ragni Allora Quello di ragni Mi ricordo che l'abbiamo chiuso una volta Quindi non dovrebbe darci problemi Però lì ce stanno creeper Ce stanno due Uh Perché esploso così Da laggiù? C'è qualcosa che non va ragazzi eh Qua esplodono i creeper Dove non devono esplodere E questo è un problema grosso Ah C'ho il magnete Mo me si attacca Tutta la roba intorno Allora Qui c'è una rinagna E non ci possono passare E va bene Qui c'è ancora la torta E qui abbiamo gli zombie Allora io direi Mi butto qua all'angoletto Qualche roba Anzi Facciamo così Visto che è tutta bella neve E a noi Ci può servire La neve ce la prendiamo E ci facciamo i blocchi Tappete Così riempiamo Il nostro inventario Senza dare troppo fastidio Al resto Qui c'è una cesta Ci poggio dentro la roba Che c'è Poggio In che sac Tanto ne rifaccio Del là Le scalette Tutto il resto Ok A me mi serve solo cosa di zombie Ciccia di zombie Per fare la quest Dai Dai che voglio fare il robit No Perché escono i ragni Dovevano uscire Gli zombie Oh Perché non riesco a saltare Oh Di uno spazio preciso Ammazza Dai che c'ho pure il magnete Così mariano tutti Stavolta Alla roba loro Vero Dai dimmi che il magnete funziona Dai Magnete Ma non hanno troppato niente No non è possibile Non ci credo Non ci credo Secondo me hanno troppato qualcosa E non me la porta No non hanno troppato niente What? Ah no si hanno troppato Ciccia di zombie Ce l'ho 4 adesso Dai zombie Su Zombie e ragni Tutto 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 per me Dai 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 Uno No il mini 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 Tu non ci devi venire qua Ho levato una torcia Ho fatto male Ah E mo Ok trovata Rimettila 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 Che qua spawna la roba brutta Allora Ok Dai Che manca poco Dai 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 CD 16 Andiamocene Andiamocene Tutto il magnete Che ci porta la roba appresso Non mi dica pure notte fuori Te prego No Te prego No Notte fuori No Oddio Le scale con la my fit E' improponibile Raga E' proprio improponibile Sta a venire Il temporale brutto Io direi Di arrivare a casa E riprendere la quest Ok 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 Sto correndo Sto correndo come i cani Tornerò alla mia casetta Ciao Ciao Vado sotto Allora Il temporale non è detto Che sia un tornato ragazzi Può essere anche un temporale normale Allora Sono tornato qui sotto Vediamo se riesco a prendere la quest Manual sub Emit Perfetto Non posso chiamare Perché ho troppa roba nell'inventario Posso un po' di robina Random Poi rimetto tutto a posto C'è pure una Una porta Allora Robit Chargepad Threadmail Reward Questi sono tutti quelli che ci da Pink Derp O white Derp Ragazzi Secondo voi Quale prenderò tra qualche secondo Io direi white Che dite Pink White Basta Parabam Parabam Allora In questa maniera Io mi sono ritrovato con Il robit Il chargepad E un treadmill E sicuramente anche un animale White Derp Che cos'è white Derp Mmm C'è paura a usarlo Allora Lo proviamo giusto per vedere che cos'è Leviamo quello che già c'è Che è il water source Dai Rientra water source Perfetto E mettiamo Il white Derp Cos'è white Derp Cani Con il lazzo Perché ragazzi Perché questo chargepad Giustamente va ad elettricità Per andare ad elettricità Sono due i modi O l'attacco a uno De sti cosi Ma non penso prendere Elettricità da sti cosi Questo E Il robottino Si dovrebbe piazzare sopra Per ricaricarlo Non so di che cosa Si sta ricaricando Come fai a ricaricarti Che non c'è cosa Per ricaricare Vabbè E' magico E' un grande Robit Allora Sopra c'è Sta il temporale Questi cani Serviranno per Metterli sopra A questo Per quale motivo Perché possiamo Criarci finalmente Il nostro clone In che senso Adesso ve lo metto In una posizione Un po' più comoda Ma perché la sto mettendo Tutto qua io la roba Non lo so Vabbè me la metto di qua Va Tiè Mi metto questo così Oh ce ne ho due addirittura Ma davvero Se ce ne ho due Posso fare anche così E questo al centro A cosa serve Dandogli elettricità Dandogli un colpo Noi potremo Creare un nostro doppione E quando moriremo Non moriremo Ritorneremo con quel doppione Questo invece è il robot E' un robottino Che ci può seguire Eccolo qui E cosa fa questo robottino Tiene Sia i pick up mod Che droppa la roba per terra E la prende Si può rinominare Quindi potete dargli il nome Che volete Può tornare a casa Quindi settarvi la home Può avere una crafting portatile E una chest portatile Al smelt portatile Quindi il fornetto portatile E anche il repair portatile Ragazzi Quindi è un robottino Fantastico Che ci segue Se mettiamo follow Guardate Giustamente va ad energia elettrica E va ricaricato Sopra charge pad Charge pad si può collegare qua Oppure a questo Per ricaricarli A treadmill Con i cani Che abbiamo preso qua Con il white derp Ragazzi Va bene Questa era La puntata di oggi Di blast off Spero vi sia piaciuta Spero che vi piaccia Ancora la serie Lasciate 40 mi piace Per continuare La serie insieme E come sempre Condividete il video Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Ci vediamo La prossima puntata Di blast off Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.